Tutto diventerà più semplice per la manutenzione che riguarda certi settori grazie agli accordi quadro che di qui a poco si chiuderanno con le imprese. Questo bilancio prevede degli investimenti per circa 4 milioni di euro, quindi si tratta di investimenti molto importanti. Il mio gruppo consigliare presenterà un emendamento che riguarda la manutenzione stradale, quindi la segnaletica, orizzontale, strisce pedonali, un assenziamento di 150 mila euro che è proprio tutto rivolto alla manutenzione stradale, tutto ciò che concerne le strade. Già sono previsti anche degli accordi quadro per la riparazione e la manutenzione stradale che a breve partiranno. C'è l'affidamento a una ditta in campo che tempestivamente andrà a riparare le buche. Si parla anche di manutenzione delle scuole. Riguarda un stanziamento di 460 mila euro per la manutenzione straordinaria delle scuole che come sappiamo in questo momento presentano delle difficoltà, però per le scuole già sono stati previsti anche il rinnovo degli arredi scolastici, ricordo anche l'acquisto di due scuole a bus, ma anche l'ampliamento della menza scolastica. Quindi questo emendamento va a supportare ciò che per noi è sicuramente prioritario, ovvero la scuola, la manutenzione della scuola. Inoltre un altro emendamento riguarda anche il verde pubblico, ovvero l'acquisto di attrezzature per far sì che i dipendenti comunali possano lavorare nel miglior modo possibile per rendere più decorose le nostre ville.